C'è una teoria suffragata più da un calcolo popolare che da dati scientifici che riguarda i voli aerei. Quando ne cade uno, allora immediatamente ne vengono giù altri due. In quale parte del mondo non si sa, però alcune statistiche dicono che ci sono circostanze che potrebbero fornire una prova. Quando però gli incidenti diventano più numerosi, allora si va oltre il dato scientifico di credenza popolare. C'è un problema e andrebbe risolto al più presto. Quattro incidenti stradali in meno di due mesi su un tratto di autostrada racchiuso in pochi chilometri tra i caselli di Ortone e Lanciano è veramente troppo. Quattro incidenti che sono costati la vita ad altrettante persone, un uomo, due donne e una bambina, vite spezzate e famiglie distrutte, magari sulla strada delle vacanze in vista di un meritato riposo. E poi tamponamenti a ripetizione a causa del restringimento della carreggiata e dei rallentamenti improvvisi. Stessimo parlando di un tratto di statale, allora potremmo anche parlare di imprudenza, alta velocità, condizioni di asfalto al limite della decenza, ma qui no. Si sta parlando di un tratto di autostrada dove gli utenti pagano un pedaggio e dovrebbero viaggiare tranquilli e sicuri. Certo, rispettando i limiti di velocità imposti dal codice e la segnaletica verticale e tenendo conto di tutti gli accorgimenti possibili, ma stiamo sempre parlando di un'autostrada dove in teoria si dovrebbe poter viaggiare ad una certa velocità, 130 km all'ora e limite, e con determinati standard di sicurezza. L'A14 per di più è l'autostrada delle vacanze, quella che porta da Bologna in giù alle località del sud al riatico. I lavori, in questo periodo dell'anno, dovrebbero essere vietati per legge e invece sono ricorrenti. Partire in giorni feriali per andare a nord o a sud è diventata un'avventura. Fino alla settimana scorsa, sempre per lavori, il mettersi in direzione nord dal casello di Atri Pineto era una roulette russa, praticamente una sola corsia e chi entrava non aveva visibilità con mezzi pesanti che arrivavano da sud e rischiavano di travolgere tutto e tutti. No, non è più possibile andare avanti così. Chi gestisce le autostrade deve pensare che il pedaggio non è solo un dovere per chi usufruisce dell'autostrada, ma dà anche dei diritti come quelli di viaggiare sicuri e su strade in perfetto stato. I lavori, se permettete, vanno fatti di notte, quando il traffico è meno intenso, oppure si chiudono i tratti autostradali e vanno fatti in fretta. Non si può lucrare sulla pelle dei cittadini e anche di chi, su quelle lingue di asfalto, ci lavora. Una nota a margine. Fino a qualche mese fa le tre corsie da Milano arrivavano fino a Rimini Nord, come se oltre non si fosse più in Italia. Da poco sono arrivate fino a Porto San Giorgio. Quanto tempo ci vorrà per portarle fino a Bari? Siamo nel 2014, ma l'idea è che ci siano sempre cittadini di Serie A e quelli di Serie B.